Il 22 dicembre 1970, mezzo secolo fa, usciva, lo chiamavano Trinità, e il West non fu più lo stesso. Da quel momento il mondo iniziò a conoscere un far West senza sangue, con molti fagioli e tanta allegria, dove le scazzottate erano balli e facevano ridere, e perfino i morti uscivano di scena con un salto, proprio come in un cartone animato. C'erano praticamente sempre sudore e polvere, ma la violenza in quel West non faceva paura. I cinema furono letteralmente presi d'assalto e quella produzione lanciò definitivamente questi due attori, fino ad allora appena sfiorati dal successo, Bud Spencer e Terence Hill. Una coppia perfetta, il gigante generoso e il fratello sottile, agile e sfrontato. Lo chiamavano Trinità, una brillante parodia del genere, in grado di dare il colpo di grazia al western hollywoodiano e consacrando all'estero definitivamente quello italiano. Mezzo secolo di Trinità, quanti ricordi, racconta Franco Michalizzi, autore delle musiche, considerando che quando è stato girato i produttori lo consideravano un piccolo film da recupero, utilizzando sette già attrezzati per molti altre produzioni e usando addirittura il lungotevere di Roma per le sequenze a cavallo. Dopo mezzo secolo, questo fantastico film, che sembra uscito ieri, se la ride, essendo il maggior incasso in assoluto di tutti i tempi tra i film italiani. Lo chiamavano Trinità, e credo che continueranno a chiamarlo così, ancora almeno fino alla fine di questo secolo. ma non poria. Grazie. 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 Grazie.